Ben ritrovati, in primo piano le priorità per la campagna nel 2021, come far ripartire l'economia del nostro territorio, economia messa a dura prova naturalmente da questa emergenza coronavirus. Ne parliamo con Salvatore Loffreda che è il direttore di Coldiretti Campania, ben ritrovato e grazie anche a lei naturalmente. Allora diciamo subito che la pandemia purtroppo continua a condizionare l'economia locale, soprattutto le imprese del settore agricolo e denogastronomico, insomma che riflessi ci sono stati finora dal vostro osservatorio, qual è la situazione? Il 2020 sta sotto gli occhi di tutti che problemi li abbiamo avuti sotto ogni profilo. Nel settore agricolo ci sono prodotti di più e di meno, ma tutti sono stati toccati, partendo dagli agriturismi che non hanno potuto avere quelle persone che il sabato e la domenica raggiungevano in Irpinia, così come per quanto riguarda il settore del vino, per quanto riguarda l'oreca e la ristorazione sicuramente hanno appesantito quello che sono. anche se è da dire che sul vino c'è da fare anche una distinzione, perché grazie alla qualità del vino Irpino, che ha bisogno di tempo per migliorarsi, visto che molte volte noi usciamo molto presto con i vini anche con i neri, io credo che uscire un anno dopo per un anno prima significa migliorare sicuramente quelli che sono i prodotti. Pertanto il 2021, se ci prepariamo bene, potrà essere un anno molto favorevole, soprattutto per far emergere quella qualità intrinseca che il vino Irpinio ha. Ecco, visto che ha toccato proprio questo settore, volevo fare un riferimento anche alle ultime polemiche che hanno interessato proprio il settore vitivinicolo della provincia di Avellino. Ci sono state due polemiche, una relativa alla mancata presenza negli autogrill dell'autostrada Napoli-Bari nel territorio Irpino, proprio dei vini Doc G di questo territorio. E poi un'altra polemica relativa invece ad un caso che si è scatenato in un supermercato cittadino dove è stato messo in vendita un fiano addirittura ad 1,19 euro, un prezzo praticamente inaccettabile vogliamo dire per questo marchio. Che cosa è successo? Per la verità sono state due denunze forti che abbiamo fatto come col diretti, perché non possiamo stare zitti rispetto a fatti commerciali come quello di vedere un nostro vino, un fiano, un greco così deprezzato a 1,19 euro. Io non voglio entrare in quelle che sono le attività commerciali che hanno inteso l'azienda e il centro distributivo o chi l'ha messo. Però mi rendo perfettamente conto che disorientiamo quello che è il consumatore perché non è possibile che noi possiamo trovare sugli scaffali un fiano, un greco a 1,19 e poi teniamo dei marchi piastrigiosi dove il fiano e il greco sta a 8 euro, chiaramente il consumatore che fa dice scusa chi mi sta rubando? Quello che vende a 8 o quello che sta vendendo a 1? Se noi facciamo il conto della serva a 1,19 significa non riuscire nemmeno a pagare non il vino o anzi le uve, la lavorazione e il trasporto, ma nemmeno la bottiglia e il tappo e l'etichetta. Allora chiaramente noi come Coldiretti abbiamo voluto denunciare questa situazione, anche perché ho visto molte assenze. Devo dire la verità, il consorzio di tutela si è mosso per quello che può fare rispetto alle sue condizioni di programmazione e promozione, certamente nei fatti commerciali sui prezzi non poteva entrarci. A me risulta però che il consorzio si è mosso, ha fatto anche una buona denuncia a questo centro commerciale che ha messo questa cosa però rimane il danno che si è consumato. Poi a dire la verità su questa polemica mi sono reso conto come Coldiretti che andando su 6 punti vendita molto importanti di chi vive e attraversano Irpinia sugli autogrill che insistono su questa provincia non c'è un prodotto irpino. Anche qui io non voglio entrare su dei fatti commerciali se conviene o no, però non capisco perché. Non ci può essere un Taurasi, non ci può essere un Piano, non ci può essere un Greco e mi ritrovo un Talcino, il Chianti che paradossalmente anche a prezzi, ma io non ne faccio una questione di prezzi. Ecco allora perché abbiamo voluto fare questa ulteriore denuncia, dire la verità e ringrazio queste emittenti che si sono stati gli unici che poi ha ripreso anche questa forma di polemica e anche la sua domanda che mi sta ponendo adesso sta a significare la vostra grande disponibilità nell'affrontare questa situazione. Ecco perché io dico che questo è un momento storico perché da qui dobbiamo programmare quello che noi vogliamo fare di questo territorio perché nessuno è disponibile a venire in Irpinia se non a cannabinalizzarsi per poter sfruttare i nostri punti vendita ma non certamente di valorizzare quello che è la produzione locale. Ecco a proposito di questo territorio adesso Irpini e Sannio avranno un'unica Camera di Commercio a suo giudizio direttore è questa l'occasione anche per ragionare in termini più unitari possiamo dire sul fronte dello sviluppo e del futuro di questo territorio. Rilanciare una vertenza unica credo possa dare anche maggiore peso alle zone interne spesso penalizzate dal governo regionale. Allora vede questa è una situazione che è partita da due o tre anni. Io sono stato già protagonista nel passato come come rappresentante del mondo agricolo e di col diretti in questa provincia che ha agevolato questo questo passaggio cioè rendendo delle aree interne molto omogenee quelle del Sannio e quello del dell'Avellinesse dell'Irpinia e Sannio affinché possano ritrovarsi in un'unica Camera di Commercio che gli pone anche sotto il profilo della sommatoria dell'impresa a farla diventare una Camera di Commercio. Però ecco io sto vedendo in questi ultimi giorni che si sta ponendo così come ho letto sugli organi di stampa di qualche settimana fa che stiamo arrivando ai gualfeghi Bellini o in una polemica sterile di come se fosse l'ultimo comune dove c'è la minoranza e la maggioranza. Io credo che dove c'è un interesse comune economico non si può stabilire che ci sia una maggioranza e una minoranza. Devo dire la verità io credo che viceversa noi dobbiamo guardare molto al territorio e dobbiamo guardare imprenditori che si vogliono cimentare e prendere in mano questa Camera di Commercio che ha bisogno tanto per evitare quelle denunce che abbiamo dovuto fare che negli autogrill non ci sono prodotti ilpini, che il vino va a 1,19. Per me la Camera di Commercio deve svolgere, deve dare questa indicazione, deve mettere anche a sistema quelli che sono i GAL, le Prologo, cioè creare un marchio di territorio che possa dare valenza. E in virtù di queste cose io mi auguro che il mondo agricolo rivendica, visto che l'Irpinia e il Sannio, l'agricoltura anche dai numeri che rappresenta all'interno dell'Assemblea della Camera di Commercio, questa volta rivendica una sua candidatura con un imprenditore vero, qualche nome è uscito fuori, noi lo stiamo anche sostenendo, chiedendo, sono stati il suo vicepresidente di Oreste, Oreste credo che fare un passo indietro sa significare una sua grande maturità rispetto al fatto che Coldiretti e il mondo agricolo l'altra volta è stato a lui vicino. Ecco, deve fare riferimento chiaramente a Oreste La Stella che ha guidato finora la Camera di Commercio di Avellino, adesso direttore come arrivare appunto a individuare una figura che possa far superare anche queste divisioni che si annunciano all'orizzonte e c'è bisogno di una figura imprenditoriale a questo punto? Io credo che la mediazione è una discussione, un tavolo tra noi altri da imprenditori, non da uomini politici a dire la verità, perché la Camera di Commercio non può essere considerata un qualcosa a pannaggio della politica, ma un qualcosa a pannaggio delle imprese, perché deve rappresentare le imprese e io su questa falsarica immagino di aprire un tavolo di discussione e far prevalere quello che è un interesse vero per poter scrivere in questa fase che stiamo, tra virgolette, dormendo, ma stiamo cercando di programmare il futuro di questa bellissima provincia o io dico di queste due bellissime province delle aree interne per poter poi partire a maggio con un interesse e di una forma di attrazione molto importante che possa fare sì che il rilancio possa essere qualcosa non auspicabile ma che si realizza. È inutile nascondere che c'è già un nome in campo ed è quello del professore Piero Mastro Berardino, professore universitario e titolare di una delle aziende storiche dal punto di vista vitivinicolo, non solo di questa provincia, ma è un marchio chiaramente conosciuto a livello internazionale e può essere una figura idonea, secondo lei qual è la vostra posizione? Guardi, mi devo confessare perché il mondo agricolo che io rappresento, perché insieme con CIA rappresentiamo un nucleo molto importante, già ci siamo ritrovati su questo nome e col Diretti, inutile dirlo, ha nominato tra i suoi uomini facendo fare qualche passo indietro qualche dirigente come il Presidente, come il Direttore, anche io l'avrei potuto fare, però io credo che Col Diretti ha voluto creare le condizioni, aprire pista a un imprenditore che non lo dico io, ma lo dice la storia di questa provincia che è stata la capacità di fare il vino, certamente il valore delle altre cantine è molteplice, però dobbiamo dire che siamo già in terza o quarta generazione di quella famiglia e se l'Irpinia del vino viene riconosciuto nel mondo, io credo che molto a questo cognome vada scritto e credo che possa essere una delle persone, per quanto riguarda Col Diretti è il più idoneo, però io mi rendo perfettamente conto che deve essere la sommatoria di 33 soggetti che rappresentano le imprese di questa provincia e di queste due province, paradossalmente noi qualche riunione già l'abbiamo anche fatta e devo dire la verità che anche i stessi benaventani hanno riconosciuto nel Professor Piero Mastroperardino la possibilità di rappresentare questa Camera unita tra Sannio e Ilpinia. Pertanto io vorrei spogliarmi del campanilismo Benevento Avellino, anche perché ci rendiamo perfettamente conto che molti enti dalle organizzazioni sindacali, da organizzazioni di qualsiasi genere, voglio dire oramai Benevento e Avellino stanno sempre assumendo sempre di più un qualcosa unitario. Io credo che su Piero Mastroperardino si si possa trovare e per questo chiedo a Oreste di evitare, a Oreste La Stella di evitare che ci dobbiamo andare a raccontare, ma che Piero possa rappresentare la capacità di questa nuova Sannio e Ilpinia come Camera di commercio a tutela di tutte le imprese di queste aree. Certo, bene. Staremo a vedere naturalmente per chiudere questa nostra intervista direttore guardando alla prospettiva, alle priorità del 2021 per quest'area vasta di Ilpinia e Sannio, qual è la vera sfida da mettere in campo? Lei parlava di un maggiore impegno per la promozione, di una migliore valorizzazione soprattutto dei prodotti tipici locali. È quello di non parlare per settore. Oggi credo che il turismo, agricoltura e altre strutture e altri comparti dobbiamo ragionare, perché l'Irpina e il Sannio possono sfociare un qualcosa di positivo se noi raggruppiamo tutte le nostre grandi capacità di raccontare questo territorio. Cioè basta andando fuori, ma facendo soprattutto incoming ad ogni livello per far conoscere queste aree. Abbiamo troppe cose ferme, io immagino per esempio quelle che sono i castelli, quelle che sono tutte le cantine, le strade del vino, cioè tutte quelle possibilità che possono fare sì che queste due province delle aree interne che hanno molto di simile e soprattutto anche sotto il profilo della cucina, ma soprattutto della bellezza, ma soprattutto anche per quanto riguarda quello che è il discorso del green che sta venendo sempre fuori, è un qualcosa che possa essere attrattivo. Ci auguriamo che questo dovremmo fare. Pertanto io ringrazio anche l'editore di questa trasmissione che è molto sensibile anche attraverso le vostre puntate che state facendo, di raccontare sempre di più quelle eccellenze che molte volte una piccola azienda non riesce ad arrivare sul mercato per farsi conoscere. Io credo che noi dobbiamo costruire anche un progetto di comunicazione dove dobbiamo creare quella curiosità affinché queste aree vengano visitate. Certo e anche noi faremo la nostra parte. Grazie allora direttore Salvatore Loffreda, direttore ricordo di Coldiretti Campania stato nostro ospite. Io ringrazio energia per noi Aldo Fenizia. Grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito. Arrivederci.